Chiara Ferragni e Vittorio Feltri, un'inaspettata alleanza, cosa c'è la questa sorprendente unione? Si tratta di una mossa strategica o di un sincero sostegno? Ma davvero Feltri crede in una caccia alle streghe contro Ferragni, o c'è dell'altro? Unisciti a noi in questa indagine intrigante, e non dimenticare di lasciare un like e iscriverti per non perdere nessun dettaglio di questo affascinante intrigo. Chiara Ferragni, nota per il suo ruolo di imprenditrice e influencer, si è trovata al centro di una controversia per la sua partecipazione alla campagna del Pandora Pink Christmas. Mentre l'azienda Balocco si è ritrovata quasi in secondo piano, le critiche si sono concentrate su Ferragni, accusata di pubblicità ingannevole e di mescolare affari e beneficenza in modo poco chiaro. Ritenete che la pubblicità degli influencer sia spesso ingannevole. Vittorio Feltri, direttore editoriale del giornale, ha preso una posizione a sorpresa, schierandosi con Ferragni. Le sue parole sono state chiarissime, quando comincia la caccia alle streghe, io sto con le streghe. Ma cosa c'è dietro queste dichiarazioni? Un sostegno sincero o una mossa strategica? Iscriviti per continuare a scoprire i retroscena di storie come questa. Nel frattempo, il mondo del gossip è in fermento. Chiara Ferragni non è apparsa alla sfilata di Gucci, un evento a cui non ha mai mancato. Questa assenza ha alimentato voci e speculazioni. E non è tutto, la vicenda ha portato alla luce problemi più ampi nel mondo degli influencer, tra etica, business e responsabilità sociale. Lascia un like se anche tu ritieni importante distinguere tra affari e beneficenza. Quindi, cosa ne pensate? Credete che la posizione di Feltri sia giustificata? E qual è la vostra opinione sulla gestione del business e della beneficenza da parte degli influencer? Lasciate un commento qui sotto. Dateci un like se il video vi è piaciuto e non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi le prossime puntate.